Di cosa si è parlato, scusa? Di Cempio Allora adesso è un po' di due Oh sì, veramente rischiate di farmi venire un infarto Però resto in silenzio perché mi piace troppo questa musica Da brividi, da brividi ringrazio il grande Sebastiano Feritella In controllo, ma carichiamo questi tifosi del Napoli Perché poi alla fine, Michele, è impossibile non parlare bene del Napoli Dopo 19 partite, 12 risultati utili consecutivi Napoli terzo in classifica Che cosa possiamo dire? La Juventus è in crisi Arriva la sfida di Coppa Italia nel momento migliore Perché poi in effetti sappiamo che il Napoli se la può giocare con grande attenzione Non abbiamo nulla da perdere Quindi andiamo a Torino Vediamo di fare un altro scherzetto ai bianconeri Che stanno attraversando davvero un periodo difficile